Musica Brucia un auto articolato che trasportava olio di oliva a traffico in tilt per ore sulla 16 in direzione Canosa Presentato lo schema di bilancio della città metropolitana per il 2015 Ecosuoni 2015 a Palma Campania ha illustrato il programma della quarta edizione che avrà inizio il 5 settembre Al Pallasport di Nocera Inferiore, campionato nazionale di calcio Balilla il 5 e 6 settembre Buonasera, è la rassegna dei titoli principali, ci separiamo per la pubblicità, a tra pochissimo Vivere una favola, spesso, è più semplice di quanto sembra Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiano Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare All'interno, le sale accoglienti e curate E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori Per serate all'insegna del divertimento Una rinnovata buonasera e ben ritrovati in studio L'abbiamo annunciato nei titoli di apertura Un auto articolato che trasportava circa 200 quintali di olio di oliva Ha preso fuoco bloccando il traffico dei veicoli in transito Sull'autostrada A16 in direzione di Canosa I vigili del fuoco a lavoro per 4 ore Il servizio Mattinata di disagi sulla A16 nel tratto che attraversa il territorio di Flomeri Il traffico è stato bloccato per parecchie ore a seguito di un incendio Che ha coinvolto un auto articolato che trasportava 200 quintali di olio di oliva Il tratto autostradale in direzione Canosa è stato chiuso Due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Grotta Minarda Sono state impegnate sul posto con il supporto di un autobotte proveniente Dalla sede del comando provinciale di Avellino Fondamentale è la prontezza del conducente del mezzo Che appena si era accorto della fuoriuscita di fumo e di fiamme dal rimorchio Ha sganciato la motrice e chiamato subito la sala operativa dei vigili del fuoco Le operazioni di spegnimento sono durate per circa 4 ore Ed è stato necessario chiudere la carreggiata Dopo ore di lavoro i caschi rossi hanno domato le fiamme La situazione è tornata a regolare Nessuna conseguenza per il conducente La cronaca un uomo di 60 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Stamane a Napoli poco prima delle 8 Il cadavere si apprende dalla questura È stato trovato all'interno di un'automobile in via Santa Teresa degli Scalzi L'allarme è stato dato da alcuni cittadini della zona Che hanno riferito di aver udito degli spari Cambiamo argomento È stato presentato dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris Lo schema di bilancio della città metropolitana per il 2015 Il servizio di Gianni Amodeo Lo schema di bilancio della città metropolitana di Napoli Per l'esercizio finanziario del 2015 è stato messo a punto Ed entro il 31 settembre sarà sottoposto al vaglio del Consiglio E della conferenza metropolitana per la definitiva approvazione Il prospetto e gli obiettivi del documento sono stati presentati Dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris Nella sala Mariella Cirillo di Palazzo Matteotti Un quadro nel quale spicca il piano di investimenti per l'edilizia scolastica Piano la cui attuazione vale oltre 32 milioni di Euro Con una portata di assoluta novità per il territorio metropolitano E con il piano per l'edilizia scolastica spiccono gli investimenti Per il potenziamento e il miglioramento della rete viaria Dei comuni che compongono l'assetto della città metropolitana Piano che comporterà investimenti per 33 milioni di Euro Un passaggio mirato De Magistris ha riservato alle incertezze di profilo legislativo Sulle funzioni delle città metropolitane Che nello spirito della riforma con cui sono state varate Sono destinate ad assolvere un ruolo rilevante nell'architettura delle autonomie locali Sì, l'abbiamo fatto con le nostre risorse È un comportamento irresponsabile del governo Che ha lasciato soli ancora una volta non solo i sindaci dei comuni Ma anche i sindaci delle città metropolitane Però con grande soddisfazione posso dire che facendo un lavoro duro Siamo riusciti a garantire le risorse necessarie Anzi anche di più Grazie veramente a un lavoro tutto cittadino Nei confronti dei servizi essenziali della città metropolitana Penso alle società partecipate come SAP, Narmene e CTP Quindi trasporto, servizi e rifiuti Penso alle scuole, alle strade, all'ambiente, alle coste Sono un lavoro veramente importante Un lavoro di squadra fatto dalla macchina Credo che in questo bilancio e negli atti fatti nelle settimane successive C'è il più grande piano di investimento pubblico Che la provincia di Napoli, oggi città metropolitana, abbia mai conosciuto nella sua storia Adesso sta alla macchina comunale tutta Ai cittadini, ai dirigenti scolastici A tutte le articolazioni di questo progetto Mettere in campo immediatamente progetti, opere, gare, lavori Perché le risorse economiche le abbiamo messo La parte politica ha fatto la sua parte Ha interpretato in modo costituzionalmente orientato le norme Non ha fatto pagare l'irresponsabilità del governo Aggiunta alla propaganda di questi giorni ai servizi ai cittadini Ce la siamo messi tutti, siamo assunti responsabilità Non abbiamo per ora sporato il patto di stabilità Prevedendo una dismissione del patrimonio Siamo pronti a farlo qualora necessario Insomma siamo un avamposto per l'attuazione dei diritti costituzionali Di fronte invece a politiche di austerità Che vanno ad entrare a gamba tesa sui cittadini E sulle comunità locali dal nord al sud del nostro paese Aggiungo e chiudo che nei confronti della città di Napoli Non è una mia opinione personale Ma sono dati oggettivi C'è un ulteriore atteggiamento discriminatorio A conferma che al contrario a quello che dice il Presidente del Consiglio E quello che sollecita un'istituzione come la Svimez C'è una condotta apertamente discriminatoria Nei confronti al Mezzogiorno E nei confronti della più grande città del Mezzogiorno d'Italia Dalla politica alla cronaca Un giovane di 25 anni Pasquale Fusco è morto Ed un suo contagio è ricoverato in prognosi riservata In terapia intensiva all'ospedale Cardarelli di Napoli In seguito, come riferisce la polizia Un incidente stradale al corso meridionale di Afragola La moto sulla quale viaggiavano è andata a sbattere contro un muro La velocità potrebbe essere, secondo gli investigatori Una delle cause dell'incidente Il ferito ha riportato traumi in varie parti del corpo Ora invece parliamo di Ecosoni 2015 La conferenza di presentazione ha illustrato il programma Della quarta edizione della Kermess In programma a Palma Campania Il servizio Sta per terminare ufficialmente il canna ono Verso la quarta edizione di Ecosoni Festival La Kermess che collega musica ed ecologia Ha presentato agli organi di informazione Attraverso una conferenza stampa dedicata Contenuti, ospiti e protagonisti Dell'appuntamento ormai diventato tradizione Sabato 5 presso l'isola ecologica di Palma Campania Saranno tre i gruppi ad alternarsi sullo stage Si parte con Insana Percezione Il gruppo emergente più interessante Che attualmente propone la città palmese Per arrivare a Verdena Band alternative rock di caratura nazionale Passando per Sandro Gioio Autentica scommessa Su cui punta la direzione artistica della manifestazione Musica ma non solo Sono previste premiazioni dedicate alle eccellenze Che l'Interland propone Divise in tre categorie Musiche d'ambiente Medicina ed ambiente E legalità ed ambiente Presenti alla conferenza stampa Oltre al presidente dell'associazione Cosuoni Agostino Finetti La responsabile legale della stessa Agnese Vuolo E l'assessore palmese all'ecologia Filippo Carrella Emblema della forte collaborazione Che intercorre fra il collettivo Onlus e la municipalità Priseduta dal primo cittadino Vincenzo Carbone Certamente per Palma Campagna Il festival Cosuoni sta diventando Un appuntamento fisso Ma soprattutto Un appuntamento che permette Di dimostrare A tanti Che se c'è collaborazione Tra amministrazione I giovani E le associazioni presenti sul territorio Soprattutto quelle Attinenti alla tutela del territorio Certamente si possono raggiungere Grandi risultati E la quarta edizione di Cosuoni È proprio la dimostrazione di questo Quest'anno abbiamo una line up Di un certo spessore Di una certa importanza E la presenza di Verdena Certamente ne è testimonianza Ma piace anche sottolineare Che il concerto È basato tutto sulla musica Ma anche ha un aspetto istituzionale Riguardo i tre premi Che ormai vengono assegnati Ogni anno durante il concerto E quindi quest'anno avremo La presenza del giornalista Nello Trocchia A cui andrà il premio Legalità Ambiente Abbiamo la presenza Della ricercatrice La dottoressa Anna Maria Calao Che avrà il premio Medicina e Ambiente E il terzo premio musicale Michele Meo Musica e Ambiente Che verrà assegnato Proprio all'insana percezione Che è il terzo gruppo Quello di apertura Del concerto Ecosoni Perché è un gruppo Diciamo locale Ma non per questo È stato premiato Perché comunque Ha fatto in una realtà difficile Come la nostra Un successo musicale E quindi ha anche inciso Un primo disco Che sta avendo I suoi primi successi Una notizia di cronaca I carabinieri Della Compagnia Stella E delle stazioni Marianella e Secondigliano Sono intervenuti In via Limitone D'Arzano A Napoli Su richiesta Di uno studente Diciannovenne Raggiunto Da un colpo Sparato Da un'arma D'aria compressa Proveniente Da una delle palazzine Delle cosiddette Case Celesti Scoperta anche La presenza Sul terrazzo Condominiale Di due pitbull Con ferite Compatibili Con quelle conseguenti A combattimenti Tra cani Ed ora Cambiamo argomento E spostiamoci A Nocera Inferiore Dove si terrà Il campionato Nazionale Di calcio Balilla La Salerno League Ospiterà Circa 500 Giocatori Provenienti Da tutta Italia L'evento È patrocinato Dal comune Di Nocera Inferiore E si svolgerà Dal 4 Fino al 6 Settembre Enzo Ruggero Il calcio Balilla Al palasport Di Nocera Inferiore L'edizione 2015 Della Salerno League L'appuntamento Ideato da Francesco Sidica Presidente Della Salerno Calcio Balilla Tre giorni di gare Con 500 giocatori Provenienti Da tutta Italia Da sabato 5 Alle ore 14 Avrà inizio La gara nazionale Mentre la premiazione Si terrà La sera Di domenica 6 L'evento ludico Sportivo Patrocinato Dal comune Di Nocera Inferiore E dall'Asi È stato presentato Nella sala consigliare Del comune Nel corso Della conferenza stampa Le squadre finaliste Approderanno Di diritto Al campionato nazionale Di serie C Certamente C'è stato impegno E sacrificio Da parte di tutti i membri Della Salerno Calcio Balilla Affiliati alla Federazione Italiana Calcio Balilla Che opera in ambito nazionale A Nocera Inferiore Dove è nata Questa società Siamo riusciti In 5 anni Di sacrifici A portare Un evento unico In Campania Dove presenziano 20 squadre 20 squadre Della provincia di Salerno Che rappresentano Questa provincia Un quartiere Una città Gli atleti Sono tutti amatori Che nel 2015 Si sono avvicinati A questo gioco Che sta diventando Uno sport Cerchiamo Di proporre Questo gioco Nelle scuole Nei carceri In tutti gli istituti Dove le persone Sono socialmente degradate Si può dire Siamo vicino a tutti Il 6 settembre Sarà una giornata Il 5-6 settembre Saranno due giorni unici In Campania Perché parteciperanno A questo evento Atleti di tutta la Campania Ci saranno 200 persone 200 atleti partecipanti Il palazzetto sarà allestito Da 20 tavoli da gioco 500 palline 15 albitri Ci sarà Un'affluenza di gente Di atleti Da tutta Ripeto La Campania Sì Io come fiduciario Coni Ho supportato Questo evento Collaborando Con il presidente Sirica Perché ritengo Che questa disciplina Venga conosciuta Sul territorio Visto che La sede È un poco Allocata fuori Del centro di Nocera Ed è giusto Che anche la città Di Lanza Venga a conoscenza Di queste discipline Visto che la Campania Ha avuto il piacere Di avere due campioni Mondiali A Torino E quindi Visto il lavoro Immenso Che fa il presidente Sirica Ci tiene Al suo territorio E a portarla Come immagini In questo territorio Noi del Coni Siamo stati Subito Pronti A collaborare A intervenire Da tramite Anche con La responsabile Responsabile Allo sport Dottor Zarrella Delegato dal sindaco Nel ospitare Quest'evento Al pala sport Di Nocera Che è il primo Evento sportivo Nazionale Che si fa Qui al pala sport Spero che L'amministrazione Tenca debitamente Conto di questo evento Trattasi del primo Evento nazionale Che poi a seguire Ci possa ancora Interessare Come istituzione Cono Per altri eventi Di importanza Nazionale Questo territorio Con 300.000 abitanti Aveva bisogno Del struttore Del pala sport Proprio per dare spazio A quelle Attività sportive Diciamo Minori Però le quali Sono contemplati Nel programma Di attività Coni Comitato Olimico Nazionale Inoltre La struttura Può servire Ad organizzare Degli eventi Programmati Per le attività Giovanili Visto che A Nocere Nell'Agro Circa 10.000 Ragazzi Partecipano Al mini volley Al mini basket Siamo un po' Latenti Per l'atletica Perché abbiamo Una bella pista La quale Non è omologata E quindi Non possiamo Postarci come Coni Eventi A livello Di campionati Regionali Nazionali E di meeting È donna Ed è napoletana Il nuovo campione Del mondo Dei pizzaioli A portare a casa Il quattordicesimo Trofeo caputo È Teresa Iorio Della pizzeria Le figlie di Iorio Al borgo Degli orefici A Napoli 42enne Figlia d'arte Lavora con una brigata Tutta al femminile Due sorelle E una nipote È salita Sul podio Piangendo Teresa Orgogliosa Di alzare Il trofeo Nell'ambito Di Napoli Pizza Village Tra Carmine E Antonio Caputo Promotori Del campionato Che ha portato A Napoli 500 pizzerie È la nostra Ultima notizia Grazie a tutti Per la cortese Attenzione Non mi resta Che augurare Una buona serata Con i nostri programmi Arrivederci Grazie a tutti